bella a tutti fourniters benvenuti su leon tube in questo video andiamo a vedere quello che potrebbe essere essere quello che potrebbe essere quello che potrebbe essere una indicazione di una futura collaborazione tra fortnite e il signore degli anelli infatti secondo kumar un noto leaker qua in questo punto andiamo un po vedere se lo troviamo è quello che vuole eccolo qua lo vedete il castello ora vi faccio vedere l'immagine qui tra l'altro ci sono tipo due denti questo qui potrebbe essere il castello del signore degli anelli infatti è tutto anche bianco vedete la colorazione particolare oltre a queste che potrebbero essere delle forze vedete sono schierate molto molto bene ok adesso devo scappare vedete nella mappa al punto qual è lassù ci troviamo esattamente qui vedete ora qua giù in fondo tra i jones e canyon condominiale eccolo qua torniamo ancora farvi vedere dov'è volete andare a vedere a curiosare anche voi il castello in omaggio comunque al signore degli anelli e che potrebbe essere e annunciare una collaborazione con il signore degli anelli molto bello questo castello comunque vedete qui potrebbero essere delle truppe che sono uscite o entrano qui ha distrutto la fortezza molto molto carino molto molto ben fatto ok ragazzi vi lascio anche la foto da guardare con tutta calma per vedere la comparazione anche con con il castello le similitudini ringraziamo kumar per questo per questa news per questo leak e ci vediamo presto con altri video mi raccomando se il video vi è piaciuto un bel mi piace condividetelo con i vostri amici non dimenticate di lasciare un commento e se vi va iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti un saluto a tutti ciao